E' una delle fiere fanesi più antiche, quella di San Bartolomeo, che torna anche quest'anno nelle giornate del 25 e 26 agosto in zona mare a Fano. La vendita delle mercanzie e l'apertura delle tradizionali bancarelle sono previste già dal mattino di venerdì 25 agosto. Bancarelle che sono posizionate nelle vie di Cristoforo Colombo, Viale Adriatico, Dante Alighieri, nel tratto terminale di Via Bramante e Viale Battisti, riservato ai produttori di aglio, cipolle ed altri prodotti agricoli ed infine nel piazzale Gerboni, utilizzato per iniziative gastronomiche, animazioni ed esposizioni. Un evento che però non vede solo il tradizionale momento per fare acquisti, ma anche alcune novità. La novità è che, come sapete, è stata ridotta di una giornata anche per venire incontro degli operatori economici che ci avevano chiesto questa riduzione. Comunque non da meno ci abbiamo cercato di compensare la giornata in meno anche con tante iniziative collaterali che si svolgeranno nel periodo dal 23 al 26 agosto. quindi anche per salutare i turisti, visto che cominciamo a essere alla fine della stagione e cercare di rivitalizzare la Sassogna in questo periodo di fine ferie. Quest'anno abbiamo anche un incremento, abbiamo voluto dare una comunicazione maggiore, un risalto maggiore a questa fiera e abbiamo anche aumentato il numero degli espositori che da 2,30 che era l'anno scorso siamo passati a 2,70. Il programma completo è possibile consultarlo sulla pagina Facebook Fiera San Bortolomiro Fano.